pensa un altro giorno sono passato davanti un'officina ora di pranzo c'era nessuno e ho visto questa macchina fiammante nuova di nuova generazione bellissima con la portiera aperta cosa ho fatto lei mi sono via no aspetta eh no ma qui mi hai tolto la battuta che cazzo ma io non lo so ma porca puta questo backstage lo teniamo